Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Darks Rider 3 Bene, ho fatto un livello così ho tolto quelle poche anime che avevo rimasto nel fra e mezzo e ho messo un punto vita E vabbè, non è tanto perché al fine ci ha dato 25 o 30 punti massimo Vabbè andiamo avanti, sarà quel che sarà Iniziamo un po' di roba, andiamo di qua E vediamo cosa fare Allora qui ci sarà da arrivare la Però prima di fare questo dobbiamo prendere la roba che c'è sotto e ammazzano un po' di gente E ci sarà da divertirsi insomma, come al solito Ok ragazzi, così vedo qualcosa Ok, hai già capito che sei uno stronzo Vai! Ecco Ok Niente, mi tocca aspettare più forte che... Cioè ci sia sicuramente una mossa alternativa che mi sfugge eh Adesso dovrei guardare le mosse Magari c'è una per impedire a questi qua che fanno gli stronchi Di continuare a farli insomma Vabbè Chi è? Salve No, no signore si calmi Insomma io non è che sono arrivato qua dicendo ci spacco il culo eh Eh, insomma Ok Perfetto L'ho fatto anche carino dai Oh c'è, porca vacca è vivo questo Diciamo che era una statua insomma Una statua più cede Tau Cosa è Tau? Eh, non lo so tanto eh Se qualche vocabolo In italiano Ciao boia leppa Eh sì, anche te sei molto astrusa eh Cioè, puoi anche presentarti un pochino meglio Arrivì là eh, ti spacco il culo è ovvio che da burro si cazza no? Oh porca vacca Eh Eccoci qua Ok, questo ce l'abbiamo fatta Questo qui cos'è? Vivo? Vegito? No? Io penso e credo che dobbiamo fare Ho fatto una cacata Eh, io ne faccio tante Non mi ricordo come si fa così ok Ti cacate direte Eh, c'è ma la plopsa va Ok Salve Oh porca vacca Eh, però non è mica giusto sai E io ero qui che ero tranquillo con le mie cose Non rompevo il cato a nessuno Insomma siete arrivati voi e avete fatto C'è porca vacca Eh No, 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 no C'è tanto per il ducato dico Mi sono cacato in mano Eh, ma non si fa così Ma il ducato lei lo sa Opla Ecco Signore Se io andassi qui e spaccassi tipo quello così Uatatatà Non ho fatto un cazzo E lui si è messo anche a ridere Oh porca vacca Ok Salve Io da questo Non pensavo ci fosse qualcosa Adesso guardo meglio eh Salve Lei non è che potrebbe Niente È stato molto carino Ok Quanti posti Avrò lasciato indietro Vediamo un po' Eccolo qui Facciamo così Così E così Perfetto Poi facciamo così Così E così Perfetto Qui c'è qualcosa No c'è un Signore Non volevo delle mutare nel senso Allora Lì sono andato Qui sono andato Qui ci posso andare Perfetto Adesso la domanda è Devo andare qua Non devo andare qua Ok Quindi devo andare qua Beh Non fa una piega no? Eccoci qua Perfettico Allora Questo Mi fa venire in mente Che lì sicuramente ci si va Però non penso neanche planando a questo punto Fatemi vedere Secondo me così A naso Andrà azionato qualcosa Ma ha fatto cacare in mano Azionato qualcosa Lì tanto ho salvato Adesso io guardo la guida Capisco cosa devo fare Però secondo me A naso Devo andare lì Però ci guardo In effetti è vero Allora Sono qua Vi faccio vedere Esattamente dove avevamo aperto Vedete che qui c'è il Sotto Sono andato qua Che aveva ammazzato Prima il tipo Però c'era ancora da andare qua sopra Quindi Adesso vi faccio vedere Ho fatto un giro Non c'è cosa di capire Ce l'ho E' vero Però mi piace anche capire un po' le cose E quindi Insomma si Va di qua E si prende anche questo Ok Beh era il medio Non era mica male Bene adesso ho fatto ciò Dobbiamo scendere Qua E azionare Il Lavaggio Settico Che cazzo si chiama questo Perfetto E qui adesso si sarà azionato Eccolo qui Il nostro caro amico E andiamo A mettere Questa Vai Salire qui se no Non riesco a salire Poi facciamo così E poi facciamo così Perfetto C'è lei poi mi ha fatto tutto Ce ne è contenta Mi è contenta di poco Lo so Ho fatto così Adesso E dobbiamo andare qui a sinistra E scendere Perfetto E di qua Benissimo Eh mamma mia avete pazienza Non riescivo proprio a farcela Allora potenziamento adorazione Cioè potenziamento adorazione Può essere incastato Unicamente in un'arma Uncini Del disprezzo Del disprezzo Del vuoto Del inventario Ogni potenziamento Lasciato Spessamente in un cino Non so cosa sia Scusate Ma porca vacca Ma porca vacca E' molto interessante E' molto interessante Magari lo userò per i boss Perché questo è veramente OP Ma proprio tante Vediamo cosa dobbiamo fare adesso A parte gli accidenti che ho tirato Abbiate pazienza Sono stati tanti Comunque anche la guida che sto seguendo Basta quattro volte che tipo Mi consola Sta cosa Allora prima di tutto Facciamo così No così Così scusate Poi facciamo Facciamo Mi sono ricognito Facciamo così E poi facciamo così Ok E forse adesso Riuscirò a fare qualcosa Vediamo un po' Andiamo di qua Perfetto Ottimo Benissimo Benissimo Oh porca vacca Ditemi che non ho sbagliato Che dovevo andare dall'altra parte Sennò mi prendo un infarto Ok Era quello giusto Allora Adesso andiamo di qua Senza cadere Perché sennò mi dovrei fare tutto da capo Eh scusatemi Mi sono fatto a prendere il panico Sono fatto la testata eh Ok Andiamo di qua Vedete che c'è qualcosa Mi fa sempre piacere Oh porca vacca Ecco qua Eh potevi darmelo anche grosso Cioè nel senso ho detto così un po' Sì Adesso dobbiamo combattere contro uno Che gli racconterò una mazzelletta Perché insomma cosa gli tiro A parte gli accidenti E qui non ho più vite Eh né miracoli Ma quello era molto miracoli Vabbè comunque era uguale No dobbiamo provare proprio Io ti spacco il culo in quattro parte No 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 Non ci provare No signore No 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 chiami anche la famiglia Eh eh porca miseria Ok Sì sì Non ci provare Mi ha sfondato il culo Eh ma d'altronde come facevo Mi ha sfondato iphone Quintana 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 Quanta 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 Tu cadrai Cacciavola Mamma mia come è fatto di merda Ok ti ho fatto infernalo Poi da qua Dobbiamo andare Verso di qua No perché di qua non c'è niente Per forza non è che ho scoperto L'acqua calda Eh porca vacca Ok da qua Poi andiamo Verso di qua Che dobbiamo tirare una leva Eccoci qua Allora provo ad usare una di queste Vediamo Giusto per vedere Più poi lo devo usare no Che si ritrova qui Vai Perfetto Quindi questa Adesso c'è da prendere la palla Eh signora le palle Eh signora prenda la palla Che dobbiamo portarla Se vai Dove giocare a bocce Ce ne si è abbigliato Bulling Ecco qua dentro Perfetto Adesso Dobbiamo Far prima di tutto Colipsio Ci trasformiamo Cazzo è la trasformazione E poi di nuovo Watatatata La fa Ok Benissimo E andiamo verso di qua Uno due Benissimo Ecco A posto Beh ce l'abbiamo fatta Dai Mamma mia che fatica Poi Qui manca la palla Eh signore le palle Allora dobbiamo scendere qua Deve stare attenti E qui c'è da prendere una cosa Ok Adesso ci trasformiamo di nuovo E facciamo una bella figura di merda Ok Beh non l'ho fatta Oh una palla Signore è pronta Allora dobbiamo andare Prima di tutto qua Benissimo E far così Watatatata Perfetto Così almeno questa Si è spostata E' pronta a ricevere la palla Dobbiamo Sì Ok Adesso la signora palla in mano Deve Mirare Qui insomma Tac Perfetto Adesso dobbiamo andare Togli la mia ragazzi Qua Ottimo E poi Con il rosso Dobbiamo spingere Y Perfetto Vedete che si è abbassato lì Ottimo Adesso dobbiamo andare Oh porca vacca E' vero che non ho più il salto Stavo pensando di planare Ma C'è la figura di merda Stava arrivando Preparatevi C'è da fare un po' di passaggi Quindi adesso con il rosso Facciamo così Perfetto Doviamo ritornare dove c'era la palla prima La Quindi facciamo così 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 E di nuovo la palla Facciamo tutto un gioco di palle oggi Poi da qui Dobbiamo scendere qui Perfetto Salire qua E c'è un'altra palla da pallare Insomma Nel senso Di qua Eccoci qua Coscia le padeo Quindi Cosa si è mosso Non ho visto assolutamente niente Dobbiamo andare Qua sopra Bellissimo E parliamo che con questa Ecco qua Faccio Perché cazzo di casini Eh Ma se la lost Adesso dobbiamo trasformarci Qui E fare così Ottimo E vedete che si sono aperti i sifoni qua Adesso Dobbiamo andare un attimo qua Con il rosso Ottimo Vedete che c'era qualcosa Bellissimo Quello che avevo usato prima Adesso discendiamo Ci trasformiamo in giallo Andiamo Qua così Grazie Allora dobbiamo andare circa lì Ok Fatto Mamma mia Che fatica ragazzi Poi da qui Dobbiamo salire Sempre più Con il rosso Ok E adesso andare qua Olè E anche questa è da Urt È fatto angelico Questa sì che è una bella cosa Ok adesso possiamo scendere In pace e tranquillità Andiamo un po' Guardo Mi piace sempre guardare Beh E mettiamo un po' di roba Qui Corsi sì cosa sia La mettiamo Oh perché Ma che salve E saltè Lei voleva andare a ballare Su sogno nel cassetto Qui se facessi Tipo così Sono sicuro Che più Poi me lo metto in culo Questo Però facciamo finta Che non sia vero E prendiamo un po' di roba Lui Lui era lui Mi aspetti un attico C'è 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 Gli piaceva far così E prendiamo anche questo Benissimo Sempre piccolo E qui abbiamo una palla Signore Pronta per le palle Beh è facile Dobbiamo prendere appunto La palla Così E scendere giù qui E una volta fatto questo Insegniamo la palla nel buco Perfetto Palla Fatta Adesso Prima rosso E poi giallo Vai Fatto qua Sì Vai Ottimissimo Andata la grande E adesso Dobbiamo salire sopra Che bello Vediamo l'ora Perfetto Adesso Dobbiamo scendere qua Bellissimo Perfetto Una volta qua Andiamo da Wolverine Perfetto Così salva anche Mamma mia Poi Te le trasportiamo Prego Fai con calma Sì Ci trasportiamo qui dove c'è l'albero Esattamente Alla forza del creatore Vai E vediamo un po' cosa fare Poi ci salutiamo Ciac E vediamo come E se riesco a potenziare Dovrei riuscire a fare un altro potenziamento Perché abbiamo trovato appunto un pezzo E forse anche per il pistino vita Che comunque potrebbe essere utile Vai Cosa ti serve Intenzione di andarci giù Pesante Abbastanza Ok Ora sei ancora più letale Sì neanche di tanto Però spero di portarla presto a più 6 Poi vediamo E va bene Vediamo come posso aiutarti Questo E possiamo farlo Alleluia Che bella Ria 72 Uno dei miei lavori migliori Tutto ciò è veramente glorioso Vediamo di fare anche questo Così abbiamo un ripistino molto maggiore E in più abbiamo 20 addirittura Cioè Fantastici Non lo credevo possibile Ah ma li hai abilitati tutti Ho fatto la cimera Io ho un potenziamento a equilibrio Perfetto Molto 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 interessante L'abbiamo fatto proprio tutti Questa non me l'ha aspettabile Beh Io sono felice Non è che io 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 È un pochino Bene Bene Adesso Andiamo da Walgrid E livelliamo Perché bisogna che mi porti su un pochettino qualcosa Perché È sono abbastanza giù Di danno sicuramente Allora Vediamo un pochettino Qua Questa è la battuta che l'ho equipaggiata E questa Che avevo detto E qui cominciamo a fare così Perfetto Ottimo 8.900 Vediamo cosa riusciamo a fare Cosa tesi Sarà di vertente Per tutte Due livelli Vedrete 3.590 Ci siamo quasi Siamo a livello 19 Perfetto Cosa mettiamo Io metterei Forza Perfetto Sennò Non riesco più a fare E adesso Ci trasportiamo Di nuovo Cosa desideri Prego Doverò Prima E ci salutiamo Così Nel prossimo episodio Finiamo Anche questo pezzettino E' stato molto Un parco Di due game Quest'episodio E ho cercato di spiegarvelo A meglio Facendo vedere passo passo In fondo Questa è una guida E questo è il mio scopo Quindi Gameplay Lo ripeto Passa sempre Secondo piano Non vado a fare Il perfect game Vado a fare La perfect guida Quindi Ragazzi Come al solito Io vi invito A lasciare un like E mi raccomando Assolutamente Un commento Per farmi sapere Cosa ne pensate Per il momento Vi saluto Ciao 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 Ciao